Tifosi rossazzurri, tifosi speciali perché c'è uno storico collezionista fra questi e c'è anche uno scrittore che per di più è anche il nipote di Massimino, li abbiamo incontrati. Il Catania non solo come squadra da tifare ma come stile di vita e questa è la filosofia di Angelo Cocuzza, parrucchiere, storico collezionista di cimeli legati alla storia della società rossazzurra che ci ha accolto nella sua bottega spiegandoci la sua passione e mostrandoci i pezzi pregiati del suo personale museo. Come collezionismo mi sono interessato, ho migliaia, non centinaia, migliaia di foto negativi, spille, tutto ciò che può riguardare il Catania a me mi interessa, specie se è d'epoca. Questa per esempio è una tribuna affollatissima degli anni 60, come si può vedere anche le riprese dove li facevano la sala stampa, quella che era la RAI, il punto RAI, la pubblicità della Torrisi. Queste foto sono significative che è stata una sconfitta dell'Inter, grandi campioni come Suarez, Jair, Facchetti. Un altro appassionato che ha dedicato la sua vita al Catania è Alessandro Russo, nipote del celebre presidente Angelo Massimino e autore di tre libri che ripercorrono la storia del club. Sono tre tappe diverse, anche se il filo conduttore è lo stesso, quello dei colori rossazzurri. La vita di mio nonno era contaminata dalle vicende del Calcio Catania, lui aveva noi, la famiglia, il lavoro e il Calcio Catania. Il Calcio Catania veniva un po' prima di tutte le altre cose. Poi è nato tutto il Catania minuto per minuto, quindi il libro mastro è stato definito perché ci sono tabellini, fotografie, racconti minuziosi, testimonianze di personaggi di un'altra epoca e si chiude un po' con le celebrazioni dell'inaugurazione di Torre del Grifo e dei successi del Catania in Serie A. Negli ultimi mesi è nato il Russo Azzurro che secondo me è il libro più bello che io abbia mai fatto perché è un modo che serve a discutere. E' un libro che apre le porte alle discussioni, quindi parlare del Catania significa conoscersi.